benvenuti in questo tutorial abbiamo installato la versione di pratico e adesso dobbiamo procedere a quella che l'attivazione basta procedere andando a cliccare quindi dal menu principale in alto a sinistra informazioni e inserire quello che il seriale di attivazione il programma sarà ovviamente attivato e si riavvierà quindi dovremo andare a riavviare il nostro programma clicchiamo su pratico e attendiamo quindi l'avvio della del programma una volta avviato ecco qui in basso a sinistra vedremo prendo l'intestatario della licenza possiamo anche vedere qui informazioni su eccola qui il nostro licenza è stata attivata correttamente e quindi possiamo procedere a continuare a inserire quelle che sono le nostre pratiche quindi a gestire quello che sono praticamente tutte le nostre pratiche edilizie